Benvenuti a Medisalute TV. Molto spesso quando viene scoperto è già molto esteso. Parliamo dell'epatocarcinoma ovvero il tumore del fegato, un tumore molto complesso da curare. Il tumore del fegato è un tumore silente perché nelle prime fasi dello sviluppo è un tumore che rimane assolutamente asintomatico. Teniamo conto che il tumore del fegato insorge nel 90% dei casi, il tumore primitivo del fegato, parlando dell'epatocarcinoma, su una malattia che è la cirrosi epatica che per tanti anni rimane asintomatica e la formazione di piccoli noduli all'interno del fegato in questa malattia non dà nessun segno di presenza. Da parecchi anni, diciamo dagli anni 80, da quando esiste l'ecografia, che è un'indagine strumentale che serve per la valutazione dei pazienti cirrotici di eventuale presenza di lesioni focali, il riscontro di neoplasia epatica spesso, come dicevamo prima, è occasionale. Negli anni precedenti, quindi negli anni 70, il tumore del fegato si scopriva quando c'era una manifestazione clinica che poteva essere l'ittero, quindi il colorito giallo della pelle, quindi corrispondente all'aumento di birubina, oppure una massa addominale palpabile che era di fatto poi il nodulo grosso che si formava nel fegato, il dimagramento, insomma dei sintomi abbastanza aspecifici, ma che comunque poi alla fine erano sintomi che indicavano la presenza di una malattia neoplastica che già era avanzata e quindi con dimensioni molto grosse oppure infiltrazione di rami arteriosi o venosi intrepatici o delle vie biliari. In quel set di pazienti la sopravvivenza a un anno era di circa il 10%, mentre adesso da quando si fa l'ecografia come screening e i tempi di screening nei pazienti sono circa ogni sei mesi, l'obiettivo è quello di trovare dei noduli piccoli, quindi i noduli più piccoli sono e meno sono, sono più facilmente trattabili e aggredibili e se vengono trattati in una fase iniziale non cambiano di fatto o cambiano leggermente la sopravvivenza aspettata per questi pazienti che ricordiamo hanno una malattia di fegato che è una malattia di per sé, una malattia seria e grave. La sopravvivenza a 5 anni di pazienti con tumore primitivo del fegato su cirrosi dipende intanto da alcuni fattori. Il fattore fondamentale e principale è la funzione del fegato, nel senso che se il fegato funziona bene e il nodulo viene trattato in tempo i pazienti a 5 anni possono avere una sopravvivenza anche del 30-40%. La sopravvivenza di pazienti asintomatici a 2 anni può arrivare anche al 90-95% e a 2 anni circa il 50-60%. Parliamo di pazienti non trattati, dati che derivano da studi fatti negli anni 80, quindi in anni in cui non esistevano terapie valide per l'epatocarcinoma a parte la chirurgia, la resezione, non parlando del trapianto che a quei tempi era molto difficile. La comunità scientifica ha individuato delle malattie e delle circostanze che sono a rischio per lo sviluppo dell'epatocarcinoma, che sono fondamentalmente la cirrosi, perché la cirrosi come tale è una malattia preneoplastica. Una delle cause di cirrosi che va emergendo sempre di più è la cirrosi da steatopatite, quindi da malattie metaboliche spesso, quindi da una steatosi, che significa grasso accumulato nel fegato che poi determina lo sviluppo della cirrosi e anche in questi pazienti c'è la possibilità e c'è il rischio che possono sviluppare epatocarcinoma. Facendo dei programmi di sorveglianza semestrale con l'ecografia si riesce a individuare dei noduli in una fase precoce e quindi come tali sono quelli che vengono trattati meglio con un risvolto positivo sia per il paziente ma sia anche per i costi della sanità. I trattamenti che vengono fatti per l'epatocarcinoma dipendono dal numero delle lesioni, dalle dimensioni delle lesioni, dalla sede delle lesioni, dall'età e dalla classe funzionale della malattia. Un trattamento innovativo per le neoplasie epatiche è la radioembolizzazione. L'azienda Villa Sofia Cervello di Palermo è la prima a sud di Napoli ad effettuarlo. Solitamente cerchiamo di fare il più possibile un lavoro d'equip, quindi pluridisciplinare, con gli altri colleghi del gruppo che si occupa di questo tipo di pazienti. Si osservano le immagini, si sbalta la storia clinica del paziente, la storia farmacologica del paziente e sulla scorta di questo è le comorbidità che il paziente presenta, che sono estremamente importanti. Sulla scorta di questo si decide se il paziente può accedere al programma di radioembolizzazione. Nel caso specifico noi possiamo avere due tipi di pazienti. Uno sono pazienti con neopatocarcinoma, che per esempio abbiano una trombosi portale, che è una situazione molto particolare in cui solo la radioembolizzazione può essere possibile fare, oppure pazienti che abbiano solo metaste sepatiche da tumori solidi. La radioembolizzazione è una pratica medico-nucleare che ha lo scopo di trattare i tumori del fegato, gli epatocarcinomi, ma anche le metastasi che provengono da altre patologie, come il carcinoma della mammella e il carcinoma del colon. Abbiamo trattato otto pazienti affetti da varie patologie del fegato, sia di epatocarcinoma ma anche per metastasi da altre patologie oncologiche. Le condizioni sono discrete. Certamente un paziente in condizioni critiche dal nostro trattamento non ha nessun beneficio. Si tratta di un kit che serve a somministrare in maniera corretta il farmaco, in maniera tale che non vi siano degli stravasi o dei refussi della sostanza radioattiva. È costituito da questo sistema dove viene collocata la sostanza radioattiva. Attraverso questo kit viene collegato, vai al dove c'è la sostanza radioattiva, ad un defussore, un sistema di somministrazione, in maniera tale che questo radiofarmaco venga, una volta individuata la zona da trattare, venga somministrato in maniera progressiva e continua, sino alla completa somministrazione di tutto il radiofarmaco contenuto dentro il vial dell'ittrio. Il radiofarmaco non è pericoloso, è un beta emittente, che ha la caratteristica di avere un range di irradiazione molto limitato. Il trattamento non viene fatto sotto sedazione. Il paziente deve stare tre giorni, un giorno di preparazione, il giorno per fare l'esame e il giorno successivo per fare i controlli subito dopo la somministrazione di radiofarmaco. Lo scopo è soprattutto quello di allungare l'attesa di vita del paziente e una qualità di vita migliore per prepararlo ad un eventuale intervento di lobectomia o di trapianto all'effegato. Tra i più noti urologi a livello internazionale, il professore Patrizio Rigatti collabora con l'Istituto GIO di Cefalù. Lo abbiamo incontrato. È cambiato in maniera importante. Attualmente si valuta molto più la problematica di prevenzione dei tumori che non quella solo della terapia. La prevenzione oggi la possiamo fare attraverso una serie di indagini, impossibili alcuni anni fa, indagini di tipo genetico. Oggi si può sapere per tempo, già direi quasi alla nascita, se una persona potrà nel suo futuro avere una certa tipologia di tumori o di malattie metaboliche importanti. Tramite una valutazione genetica dei geni, alcuni tipi di geni, BCR1, BCR2, eccetera, possiamo sapere se questa nel suo futuro avrà tumori dell'apparato genitale. E così è anche nell'uomo. Quindi questa è una svolta epocale nel nostro mondo. Esiste anche un problema diverso dagli anni passati, che è quello dell'inseguimento di malattie tumorali che una volta erano ritenute alla fine della corsa della vita di una persona. Oggi invece si ripropongono degli interventi o delle terapie che possono permetterci di andare a inseguire queste metastasi, chiamiamole metastasi, no? Sia che queste siano parenchimali, sia che siano osse, andarle a levare e quindi dare al paziente una chance in più di poter sopravvivere, sopravvivere meglio e qualche volta anche guarire. Quindi questo fino a qualche anno fa era impensabile. Oggi invece è una realtà che possiamo proporre a questo tipo di pazienti che una volta non avevano destino. Per esempio si possono fare interventi di asportazione di queste metastasi retroperitoneali, alte anche fino al diaframma. Si fanno interventi anche molto complessi, su tumori molto complessi, anche in situazioni ritenute impossibili tecnicamente fino a un po' di tempo fa. Purtroppo la prostata è un organo che scarsamente dà una sintomatologia precoce, se noi intendiamo la patologia più pericolosa, cioè il tumore. Il tumore non dà sintomi come lo dà invece l'ingrossamento della prostata, patologia che è normale nell'uomo, no? Noi tutti abbiamo questo ingrossamento della prostata legato a delle problematiche dell'età. Comincia questa patologia a 16 anni e va avanti. E questo dà dei disturbi urinari. Mentre il tumore della prostata purtroppo è infido, non dà sintomatologia, se non quando ormai è diventato, direi, di volume e di estensione molto avanzata. Per cui oggi si ritiene di eseguire delle indagini regolarmente, a partire da un'età molto giovane, per riuscire a individuare se questa persona è a rischio o no. Se esiste una linea familiare di tumori, voi in senso materno che paterno di quel tipo lì, conviene cominciare già dall'età molto giovanile a fare queste indagini genetiche. E questo ci permetterà di stabilire anche l'età in cui cominciare a fare delle indagini più approfondite su queste persone a rischio. Il PSA ha una validità che è circa del 50%. È come una monetina che le butta per aria a testa o croce. Oggi abbiamo anche altri sistemi molto più precisi del PSA che si chiamano PCA3 e che si chiamano PHI. Sono indagini, una sul liquido prostatico dopo spremitura della prostata e l'altra invece su un prelievo di sangue, il PHI. E questi possono far salire l'affidabilità diagnostica di almeno il 30%. Oggi abbiamo delle possibilità di diagnosi molto più approfondite per alcuni tumori che sono molto frequenti. Per esempio, nell'esame delle urine, per capire se il paziente ha un tumore o in prima battuta o recidivo dopo altri interventi che sono stati fatti, una volta utilizzavamo un esame delle urine che si chiamava esame citologico delle urine. Anche qui l'affidabilità diagnostica era dal 40 al 50%, quindi scarsa. C'erano molti falsi positivi e molti falsi negativi. Oggi fortunatamente abbiamo un esame che si chiama PHISH che va dentro la cellula a vedere se esistono delle alterazioni di alcuni cromosomi 9, 21 e così via che ci permettono di fare una diagnosi di presenza di cellule tumorali quando anche non si riescono a vedere con la cistoscopia perché si riescono anche a fare queste diagnosi nell'alto apparato urinario, cioè negli ureterni, nella pelve e così via. Quindi è un enorme salto di qualità diagnostico che abbiamo oggi a disposizione. Il ciclismo e quindi il trauma continuo che può dare il sellino sul perineo dell'uomo può portare a una problematica a livello dell'uretra, cioè del canale che scarica la pipì dalla vescica all'esterno. Il trauma continuo può portare a un restringimento di questo canale, quello che noi chiamiamo stenosi dell'uretra. La prostata è un po' difesa dal piano muscolare del perineo, dal trauma del sellino, quindi è molto improbabile che un disturbo minzionale in un ciclista possa essere riferibile più a una prostata che non invece ad un'astenosi dell'uretra. Quindi esiste l'esigenza di sapere questa cosa in prima battuta e il secondo fare delle indagini mirate su questa problematica prima di responsabilizzare una ghiandola prostatica e magari non c'entra niente. Ama raccontare dei sorrisi restituiti a bambini speciali, sorrisi che forse non potrà più ridare. L'odontoiatria speciale nasce da una necessità e da un'intuizione, mia e del dottore Terranova che insieme a me ha iniziato questa attività. Noi come dentisti ci rendevamo conto, ognuno per la sua storia personale, io perché ero stato curatore speciale al Tribunale dei Minori, lui per la sua vicenda personali, avevamo avuto modo di approcciare pazienti disabili. Ma ci eravamo anche ben resi conto, ognuno per conto nostro, che era impossibile lavorare con il disabile non collaborante né presso i nostri studi privati, né andando pietendo la cortesia di una casa di cura che ci accogliesse per l'intervento. Perché noi non abbiamo intercettato un bisogno indotto, noi abbiamo intercettato un bisogno reale, che prima era sommerso, che prima era tutto sulle spalle dei genitori di questi ragazzi. Oggi, a fronte dei nostri 13.000 interventi in questi anni, a fronte dei circa 2.000 interventi l'anno che ormai ci siamo stabilizzati su questi numeri, noi abbiamo un indice di attrazione del 27% extra-provinciale, cioè da tutte le altre province siciliane, dell'1,2% extra-regionale. Perché da noi trovano una condizione particolare, che è quella di un'accoglienza tutta dedicata alla famiglia del disabile. Noi abbiamo delle camere di ricovero dove ci sono tre letti, c'è il televisore, il forno a microonde, il frigorifero, il bagno in camera, e uno si chiede tre letti cosa vuol dire tre pazienti. No, significa papà, mamma e figlio. Noi abbiamo, tra l'altro, da sempre cercato di dare un taglio multidisciplinare al nostro lavoro. Perché il momento in cui tu affronti il paziente difficile, disabile, non collaborante, riesci ad addormentarlo, e lui magari ha più di una patologia. Se multidisciplinariamente riusciamo ad affrontare i problemi, ma noi diamo una risposta di civiltà, non al paziente, non a noi, ma una risposta di civiltà alle famiglie. Noi abbiamo cercato di trasformare una bella parola in qualcosa di reale. Umanizzazione del rapporto significa aprire l'ospedale la sera per far venire le famiglie con i loro figli a prendere la pizza. Umanizzazione significa portare questi ragazzi al mare insieme ai medici. Umanizzazione significa non dire mai non si può fare. Pensare che tutto questo, che ci è riconosciuto, devo dire anche ufficialmente, siamo centro di riferimento regionale, abbiamo vinto premi, e incomi dalla comunità europea, il telegramma di benedizione del Papa. Peccato che c'è qualcuno che non si accorge che è una cosa bella, ma molto precaria. E per precario intendo dire anche il personale. Perché, ma quanti siete? Tre. Tre. Siamo tre. Gli altri, che pure sono fondamentali per la nostra attività, sono tutti precari. E non da oggi, da 13 anni. E' un rischio chiusura per i motivi che sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo allocati presso l'ospedale Ferrarotto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Vittorio Emanuele di Catania. Questo ospedale, notoriamente, si sa, deve essere svuotato in tempi anche brevi. Si parlava di qualche mese, ma se ne parla mai da tempo, a giugno dovrebbe essere trasferito tutto ciò che è all'interno del Ferrarotto, dovrebbe essere trasferito al Policlinico, giustamente con l'apertura del pronto soccorso. Noi siamo lì e nel momento in cui tutto dovesse essere trasferito noi non abbiamo previsti dei locali né al Policlinico né al San Marco, se vogliamo, perché pur essendo stati previsti nella strutturazione della nuova azienda Policlinico Vittorio Emanuele, al San Marco in realtà locali per noi non ce ne sono. non sono stati strutturati per accogliere l'odontoiatria per disabili. Cosa accade? Che proprio in previsione di queste difficoltà noi siamo stati previsti nella pianta organica e nell'atto aziendale dell'ASP di Catania. Per cui veniamo trasferiti dall'azienda Policlinico Università all'azienda ASP di Catania. Era stato inizialmente previsto come ospedale il San Luigi ma il San Luigi essendo un PTA non può accogliere un reparto ospedaliero che lavora a H24 perché la sera alle 8 chiude noi abbiamo i pazienti ricoverati ed è ovvio che non possiamo per cui andare al San Luigi. Giustamente con grande sforzo l'azienda è riuscita, l'azienda ASP, a trovare dei locali importanti. Ad Acireale a noi sta benissimo solo che l'impasto odierno è che i locali li abbiamo anche visti, belli sono, ma i lavori e anche la previsione di ristrutturazione non parte. Se domani mattina, diciamo fra sei mesi, il Ferrarotto chiude, se però fra sei mesi Acireale non è pronto, se non c'è dove andare, noi dove andiamo? E soprattutto noi magari passeggiamo nei corridoi di qualche reparto che ci accoglierà, ma i nostri pazienti sicuramente restano a casa. questo è il grande rischio di chiusura. Alla politica noi chiediamo soltanto I care, me ne curo io. È un reparto che non soltanto noi vogliamo potenziare e stabilizzare, ma lo sto prendendo, l'ho preso come esempio per estendere questa esperienza del reparto di odontoiatria per soggetti disabili non collaboranti, come si dice, in tutta la Sicilia. Questo è un servizio di grande importanza per le famiglie, per i pazienti che hanno queste necessità, per cui non c'è alcun rischio. Il direttore generale dell'ASP di Catania, dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, sa perfettamente, insieme al direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, che questo servizio non soltanto deve essere mantenuto, ma deve essere potenziato e salvaguardato. C'è un'intesa già tra l'azienda ospedaliera universitaria e l'azienda sanitaria territoriale, l'azienda sanitaria provinciale di Catania, per cui questo servizio passerà alla gestione dell'azienda sanitaria provinciale. Sulle modalità di gestione operative, io ho la garanzia del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, il dottore Cantario, e del direttore generale dell'azienda territoriale, il dottore Gianmanco. Quindi questa è una garanzia che certamente mi rassicura. Siamo arrivati alla fine della seconda puntata di Medisalute TV. Se volete potete seguirci su Facebook e Twitter oppure scriverci a redazionechiocciolamedisalute.it. Arrivederci. Sous-titrage Société Radio-Canada